A partire da luglio ricominceranno i festival cinematografici e le rassegne che promuovono la cultura cinematografica in Puglia. Lo ha annunciato l'assessore regionale all'industria culturale e turistica Loredana Capone. Una larga parte dei festival si terrà con nuovi format e accorgimenti rispettando le misure previste per l'emergenza Covid. La nostra regione sarà nuovamente invasa dall'arte, commenta l'assessore, con manifestazioni che valorizzano gli artisti, le produzioni cinematografiche e un importante volano per la divulgazione e la promozione del nostro territorio in cui la regione ha sempre creduto. Insieme ad Apulia Film Commission la regione finanzia tutte le attività e avremo la possibilità di godere di festival importanti come B-Fest, Festival del Cinema Europeo, il Festival del Cinema Francese, le Cinema Festival del Cinema del Reale, le Mondfest, l'Otranto Film Festival. Insomma un'estate di grandissimi appuntamenti confermati nonostante quella che è l'emergenza Covid con la speranza che possa tornare la voglia di vivere lo spettacolo del cinema magari anche all'aperto in una singolare, ci speriamo, estate 2020.